Eccoci tornati in studio, adesso sono in compagnia di Elisa Boff e Elena Kelly che rispettivamente lavorano nella Biblioteca Città di Arezzo e nella Biblioteca Comunale di Montevarchi per presentarci il grande ritorno di un'iniziativa molto amata nel territorio che è finalizzata alla lettura per bambini e per le loro famiglie, nati per leggere, però quest'anno torna in grande spolvero. Assolutamente sì Ilaria, noi ci teniamo molto che questo programma sia condiviso il più possibile da tutti i cittadini Aretini e per questo motivo la rete documentaria Aretina ha creato questo programma che unisce tutte le biblioteche pubbliche di ente locale che hanno delle sezioni ragazze al loro interno per creare questo calendario unico che partirà da domani fino alla fine di maggio con incontri sia per genitori che per letture per bambini perché crediamo fortemente nel programma di Nati per Leggere, crediamo che è importante leggere bambini da 0 a 6 anni e per questo motivo abbiamo creato appunto questo unico calendario dove le persone possono quindi scegliere qual è la sede dove andare in un'ottica proprio di un unico servizio per tutto il territorio Aretino E quindi ormai è capillare in tutte le biblioteche del territorio della provincia? Sì, noi diciamo con la rete documentaria Aretina di cui fanno parte sia le biblioteche che gli archivi il nostro obiettivo principale è quello di creare dei servizi che siano uguali per tutti i cittadini indifferentemente dal comune di residenza quindi dare la stessa qualità e quantità di servizi sia appunto in termini di eventi sia in termini di servizi che possono ritrovare sia nelle biblioteche che negli archivi Allora io intanto vado anche da Elena Kelly che rappresenta una di queste tante altre biblioteche del territorio interessati dall'edizione 2022 di Nati per Leggere nello specifico la Biblioteca Comunale di Montevarchi Parliamo dell'obiettivo di questo progetto, quali sono i benefici concreti della lettura fin dalla tenera età forse diremo anche prima della nascita, voi lo consigliate, lo so Hai detto benissimo, hai già capito il cuore di questo programma sì che nasce più di 20 anni fa in Italia insomma da precedenti esperienze internazionali anglosassoni e statunitensi in ambito ospedaliero ma in Italia ormai ha la sua storicità anche le biblioteche Aretine hanno aderito a questo programma e mettono in campo quello che è ciò che può fare la biblioteca pubblica sul territorio ovvero essere un presidio di vicinanza, di territorialità, di servizio per le famiglie dove incontrare appunto collezioni di risorse di libri vaste e ricche e operatori appassionati ma soprattutto qualificati che ti sanno consigliare qual è il libro più adatto alla fase d'età del tuo bambino perché ha ogni libro il suo lettore, ha ogni lettore il suo libro quindi specialmente nella fascia d'età dell'età prescolare che quindi va dall'attesa, dalla gravidanza, ai primi mesi della nascita e poi soprattutto ovviamente da quando il bambino riesce a stare in posizione retta e quindi a interagire con l'oggetto libro e da lì si apre il mondo meraviglioso delle storie quindi i genitori hanno questo ruolo fondamentale e noi bibliotecari siamo a supporto della genitorialità consapevole Ecco Elisa, quali sono i benefici della lettura? Perché ecco si legge che inizialmente basta un po' come dire la prosodia, la melodia poi quali sono invece i benefici diretti che si può avere dall'essere abituati alla lettura? Allora i benefici sono tanti sia all'interno della famiglia come diceva Elena proprio per uno sviluppo della genitorialità perché leggere insieme, quindi avere il nostro bambino in collo e davanti sfogliare semplicemente un libro che è molto semplice a seconda anche della fascia d'età a cui si rivolgono i vari libri questo sviluppo ha proprio un rapporto intimo quindi è come un gioco che si fa insieme proprio per sviluppare anche il rapporto con il bambino si parla di genitori ma in realtà è una pratica che può essere fatta dai nonni, dai zii da chiunque ruota intorno al bambino e vuole dare a questo bimbo uno stimolo in più perché poi è stato dimostrato che se la lettura viene fatta fin dalla tenerità soprattutto nei primi 100 giorni di vita questo dà al bambino uno sviluppo cognitivo maggiore che poi dopo gli servirà a livello di concentrazione, a livello di apprendimento a scuola quindi sono molti vantaggi che sono stati verificati proprio perché Nati per Leggere è un programma nazionale ma è costituito da bibliotecari come noi ma da insegnanti, da pediatri quindi sia da una struttura sia sanitaria che educativa Certo, allora noi abbiamo proposto ai nostri telespettatori il volantino con tutti i vari appuntamenti sono tanti, da questo volantino capiamo ecco come dicevo in apertura insomma la vastità di questo progetto di quest'anno però ecco diamo ai nostri telespettatori i riferimenti per trovare l'evento più vicino a loro Sì, allora loro possono vedere sia nella locandina che sta girando sia nei social delle biblioteche che nel sito della rete documentaria Aretina che è arezzo.biblioteche.it più semplice di così non si può dove possono vedere tutti gli eventi la differenzazione tra i due calendari che si possono vedere che il primo è orientato soprattutto per i genitori quindi magari per il genitore un pochino più spaventato che non sa bene come fare quando veramente è una cosa molto semplice la cosa più naturale che vi deve venire da fare con il vostro bambino mentre l'altra parte del programma è pensata proprio per venire in biblioteca con i vostri bimbi, con il vostro bimbo e stare tutti insieme in un tappeto con dei cuscini e godersi la lettura che esegue a quel punto il bibliotecario Ecco, ufficialmente l'emergenza sanitaria è terminata però ci sono comunque delle accortezze da seguire ci sono regole, anche prenotazione Allora, sì, a seconda ora per fortuna si sta allentando tutto e anche noi finalmente siamo in grado di presentare programmi di questo tipo Abbiamo ancora l'obbligo del Green Pass e soprattutto per eventi che hanno magari un numero maggiore per un numero limitato come questo di Nati per Leggere perché a seconda della portata delle sezioni ragazzi si può andare tranquillamente Allora, noi vi invitiamo a partecipare a questo momento che le biblioteche di tutto il territorio a retino offrono che sicuramente è un modo molto semplice ma che lascia un segno nella vita dei più piccoli e di tutta la loro famiglia Io ringrazio Elisa Boffa ringrazio anche Elena Kelly per essere state con noi Ci ritroviamo tra pochissimo ancora non si conclude la puntata di oggi quindi restate con noi